Cosa gli è successo a Eman? È diventato Dottorosso! Eman è rosso! Ma ci passa un cazzo! Ma questo diavolo di barbaro ci passa un cazzo! Aspetta! Ma perché Eman è diventato rosso? Ma tu hai fatto scrivere in audio? Eman è sussati! Officer! Cosa gli è? Cosa gli è? Cosa gli è? Cosa gli è? Eman è? Eman è? Cosa gli è? Rispondo e Raspudin! Rampo che è? Ma mamma! Come si divertono? Sì! Alberto, ok. Raspo, sempre peggio. Ibai, perché sei tutto rosso? Tim, perché sei tutto rosso? Potrei penetrarti con la mia vita. Va bene, raga, io vado, un secondo te. Perfetto. Resto nella chat comunque sia. No. Mi faccio parlare a mia sorella, mi sa che voce fai? Sì, sorellina. Sì, sorellina parla, brava. Sì, sorellina, parla. Ciao, Sky. C'è un cazzo da ridere. C'è un cazzo da ridere. E sono Sky, guarda. E faccio Fug, la scana, il DPS, e a me e tu. E non mi ha sentito ed è un cazzo da ridere. E c'è un cazzo da ridere. E c'è un cazzo da ridere. Perfetto, Alex, anche se non mette il culo. Analziste, andiamo. Fug, la Sky, no, cazzo. Un cazzo da ridere. che altro cazzo dice Sky che altro cazzo dice a parte tu non sei un proprio persa ciao